buongiorno ragazzi sono l'ammiraglio gorion stamattina dobbiamo parlare di un tema importantissimo l'acqua l'acqua la usiamo per lavarci la faccia per lavarci i denti per lavarci le ascelle seguitemi in questa avventura e scopriremo i suoi misteri le sue potenzialità e anche come l'uomo la maltratta tutti i giorni venite con me la prima cosa da fare è versare all'interno del primo contenitore dell'acqua fredda e nel secondo contenitore dell'acqua molto calda attento a non scottarti fatta aiutare dai tuoi genitori o dai tuoi insegnanti adesso versiamo lentamente l'inchiostro nei due contenitori e osserviamo cosa succede notiamo che l'inchiostro colorato si propaga diversamente nei due contenitori più velocemente nell'acqua calda più lentamente in quella fredda ciò accade perché quando la temperatura sale le molecole d'acqua si muovono ed urtano le molecole d'inchiostro più velocemente grazie ragazzi siete stati bravissimi complimenti ai miei scienziati con questo piccolo esperimento possiamo capire i danni che provoca l'uomo quando butta nel mare acqua calda proveniente dagli impianti industriali bravissimi